E qui per Radiofonica.com abbiamo al link due ragazzi di uno staff molto conosciuto nel Perugino e adesso vi presenterete ai nostri ascoltatori e ci direte quali sono i vostri progetti futuri Innanzitutto presentatevi Ciao a tutti, io sono Luca Io sono Giovanni E noi siamo i Roggers Ovviamente, io vi conosco perché dico Mercurial di Rock ma per chi non conosce spiegateci un po' cosa fa i Roggers progetti futuri, come andrà quest'anno e cosa ci sarà di nuovo Complimenti, parentesi che non c'entra niente per il Nerd Party che secondo me è stato uno dei più fighi Vabbè io sono un po' nerd quindi mi è piaciuto molto Ditemi voi cosa farete, quando rinizierete che molti vorrebbero che riniziaste Sì esatto, finalmente abbiamo una data, possiamo ufficializzarla che è il 22 ottobre quindi mercoledì 22 ricomincerà il Mercurial di Rock che è sicuramente tra le serate più attese appunto come detto tu prima dagli studenti di Perugia Abbiamo avuto qualche piccolo problema lo scorso anno che ci ha fatto chiudere in anticipo rispetto a quella che era la chiusura della stagione problemi che fortunatamente si sono risolti e quindi riusciremo a ripartire speriamo senza alcun problema questa volta Domanda, ma è sempre con l'entrata a pagamento, con un drink oppure la formula è la stessa dell'anno scorso? Allora, sì, la formula dovrebbe essere la stessa dell'anno scorso salvo impreviste l'ultimo minuto Tu mi confermi tutto ciò? Sì, probabilmente ci sarà una variazione del prezzo ma non dipende da noi Esatto, sì, anche perché lo scorso anno fecimo la prima gratuita e c'è stato veramente troppa gente che non riuscivamo assolutamente a gestire Quindi serve un po' di selezione all'ingresso ovviamente con l'ingresso a pagamento è l'unico modo per selezionare un po' di gente se no c'è la calca alla cassa Però il fatto che la gente si lamenti per 5 euro con consumazione quando c'hai un live, un DJ set, comunque una bella situazione che in tante altre città non c'è ci fa un sacco ridere, ma va bene così Io sono il primo, io frequento abbastanza pure il mio programma, ne parlo perché comunque su Spotted esce tutto quello che i morti del Mercoledì Rock quindi il 20 ottobre, quindi invita... 22 Una domanda, un'altra, voi quando siete nati? Ti rispondere a lui perché io... Siamo nati circa 4 anni fa Facevamo inizialmente le liste all'Urban Lista Rockers che tuttora c'è comunque Abbiamo sempre avuto la posizione degli eventi, di organizzare eventi quindi a un certo punto ci siamo uniti all'inizio eravamo una decina, poi siamo allargati sempre di più e abbiamo iniziato col mercoledì al contrapunto prima facendo delle serate nella saletta piccola del Norman addirittura poi ci siamo ingranditi sempre di più e ci siamo spostati dal contrapunto e da lì in poi è stato incredibile cioè sempre più grande contrapunto, loop e poi 110 Progetti futuri? Che ne so, adesso c'è il Mercoledì Rock al 110 che ne so, vi state ampliando? State facendo qualcosa in più rispetto a quello che è già un successo del Mercoledì Rock? Sì, allora abbiamo istituito l'associazione Rockers sicuramente riprenderà il progetto dell'Umbria che spacca che c'è stato il 25-26 giugno a San Francesco al Prato sicuramente ci sarà una terza edizione comunque lavoreremo anche per quella perché è stata una bellissima manifestazione secondo noi, ben riuscita soprattutto E altri progetti? Forse ci sarà qualche novità non vogliamo svelarvela adesso ma probabilmente si tratta di un altro giorno settimanale all'interno del 110 ma ancora niente di confermato comunque vi faremo sapere ovviamente Bene, quindi allora un invito ai radiofonici fateci un invito personale voi del Rockers agli ascoltatori di Radiofonica e che ne so, dite voi Sì, allora noi ci stiamo impegnando affinché la gente non vada a lezione il giovedì mattina questa è proprio la priorità che ci siamo imposti come staff Rockers quindi fatevi quest'altro giovedì giovedì prossimo e poi dal 22 ricomincerà quello che appunto è considerato uno dei deliri e disagi della città di Perugia e noi siamo ben felici Vabbè, io non mancherò sicuramente tutti gli anni quindi se vi ricordate di me mi fa molto piacere e va bene allora quindi per Radiofonica ho concluso quindi ragazzi preparatevi perché il Mercoledì Rock sta tornando scusate proprio l'inghese però vabbè